Agente 00Waf, abbiamo una missione veramente importante. Dobbiamo sbregarci. Corri! Ah, bene. Vedo che abbiamo ricevuto gli stessi fascicoli. Sì, 00Aien-san. Io sono pronta, sono pronta per fare bluffing missione. Sono pronta, però prima ringraziamo Hi-Fi di Plinzio. Arigato, arigato, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu di Plinzio-san. Arigato, 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 arigato. Arigato gozaimasu. Arigato, arigato di Plinzio-san. Siamo di fronte alla massima espressione giapponese in campo Hi-Fi. Tecnologie e tradizione si sposano in un mix esplosivo. Inizia la missione! Reggetevi forte! Ciao a tutti, io sono Maurizio e vi do il benvenuto su Audiofilando, il canale dedicato a tutti gli amanti del vero ascolto. Oggi a casa Audiofilando abbiamo un ospite davvero speciale. Grazie ad Hi-Fi di Plinzio che me lo ha inviato, ho il piacere di farvi ascoltare, anzi, parliamoci chiaro. In questo caso ho in primo luogo il piacere di ascoltare l'ultimo nato tra gli amplificatori integrati di casa Acuphase, l'E800. Si tratta del nuovo flagship, il nuovo gioiello in pura classe A che si pone al vertice degli amplificatori integrati della casa giapponese. Come sempre io e Elena vi proporremo prima la prova d'ascolto nel nostro setup e poi vi daremo le nostre impressioni che potrebbero essere chiamate emozioni in questo caso. Come sempre prima di iniziare vi invito sempre a mettere il pollicione su ai nostri video e iscrivervi al canale Audiofilando. In questo modo potremo crescere ulteriormente e proporvi ascolti e review di altri prodotti prestigiosi come questo. Due parole sul setup. Collegheremo l'E800 alle nostre Olimpica 3 e useremo come player digitale, come al solito, il NAD M50. Come scheda DAC abbiamo a disposizione la scheda, nel vero senso della parola, DAC50, che è quella progettata da Acuphase per essere inserita all'interno dei propri amplificatori integrati e di alcuni stadi pre. Onestamente non vedo l'ora di ascoltare questa catena per sentire con le mie orecchie la mitica timbrica dei classe A Acuphase. Come sempre in questa prova d'ascolto, in questo video, troverete solo un breve estratto. Per coloro che fossero interessati a un ascolto più completo invito ad andare sul canale Telegram di Audiofilando dove troverete quattro tracce complete di generi diversi registrate col nostro registratore Zoom H4n Pro. Questa registrazione è in formato 24 bit 96 kHz e quindi non filtrata, tra virgolette, dalla compressione YouTube. Vi ricordo, come tutte le volte, di prendere con le pinze quello che ascolterete. Questo è valido sempre per tutti i setup che entreranno in casa audiofilando, ma in particolar modo quando si tratta di oggetti di questo tipo stiamo entrando veramente nel campo della massima espressione che la riproduzione musicale domestica può offrire. Vi invito quindi di alzarvi dal divano e andare ad ascoltare questi prodotti direttamente in negozio. Non sarà certo il mio registratore a giustificare certe spese, certi importi nel campo Wi-Fi. Appena lo restituirò, ahimè, sì, sarò costretto a restituirlo, chiedete di Luciano di Wi-Fi di Prinzio che sarà ben lieto di farvelo ascoltare associato a una coppia di diffusori adeguata al blasone di questo amplificatore. Per ora però ce lo godiamo io Elena. Partiamo! Ok, a questo punto vi invito ad ascoltare la versione integrale di questa prova d'ascolto per cui vi lascio qui sotto il link al canale Telegram di Audiofilando. Noi ci vedremo nel prossimo video per una review completa di questo amplificatore e per darvi le nostre impressioni d'ascolto. Per oggi non resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!